Stamani parliamo delle ultime lettere di Jacopo Ortis, che esce nel 1802 dopo Alterne Vicende. Avrà altre edizioni, comunque a noi interessa in questa sede vedere quali sono i temi, lo stile, l'ispirazione di questo romanzo, che copre un arco di tempo che va dal 1797, l'anno del Trattato di Campoformio con il quale, ricordo, Napoleone cede Venezia all'Austria, fino al 1799 quando Jacopo si suicida. Il genere è quello del romanzo epistolare, si tratta di una successione di lettere scritte dal giovane protagonista a un amico che si chiama Lorenzo Alderani, il quale raccoglie le sue testimonianze, le sue lettere, biglietti, frammenti, eccetera, e ricostruisce gli ultimi giorni di Jacopo, compresa la notte del suicidio, con informazioni che trae da altri personaggi. In più Lorenzo unisce le proprie congetture, le proprie osservazioni dirette e quindi ricostruisce la vicenda tragica di questo amico. Jacopo si esprime in maniera molto passionale, Lorenzo invece è razionale, affettuoso e lo dice espressamente, intende erigere un monumento alla virtù sconosciuta. Vuole che l'amico scomparso susciti compassione e soprattutto che diventi un esempio e un conforto per gli altri. In sintesi la strama è questa, Napoleone tradisce le speranze e le promesse di libertà, cede Venezia all'Austria con il trattato Campoformio e il giovane Jacopo deve perciò lasciare Venezia per sfuggire alla repressione e si rifugia sui colli euganei vicino a Padova. Qui è tormentato dalla delusione politica, cerca un po' di pace nella campagna, legge, passeggia e nel contempo frequenta una famiglia di un signore, un certo signor T, che è un signore dignitoso, gentile, che ha due figli, una bambina di 4 anni Isabella e Teresa che è una ragazza promessa sposa a un uomo molto arido, però aristocratico, Odoardo. Il matrimonio deve essere un matrimonio di interesse e il padre sacrifica la figlia perché si trova in condizioni economiche precarie. A questo punto però fra Jacopo e Teresa nasce una grande sintonia e piano piano diventa un amore impossibile anche se non è dichiarato se non in fondo con un bacio e quindi i due sanno benissimo di non avere speranze. Teresa si sacrifica per risollevare le condizioni economiche della famiglia e Jacopo non ha da offrirle niente in cambio. Quindi, convinto dall'amico Lorenzo, si allontana dai Colli Eugani e va a giro per l'Italia. Prima a Bologna, poi a Firenze dove visita le tombe dei grandi italiani e poi a Milano dove incontra Alparini. Fino a Ventimiglia dove riflette sulla violenza della storia e a quel punto decide di tornare indietro. Si ferma sul sepolcro di Dante a Ravenna, va a Venezia a salutare la madre e Lorenzo. Infine, quando sente dire la notizia, quando apprende la notizia del matrimonio di Teresa, decide di suicidarsi. Torna sui Colli Eugani, la saluta un'ultima volta e gli dà furtivamente il proprio ritratto e alla fine poi si toglie la vita pugnalandosi al petto citando i versi di Dante. Libertà va cercando che si è cara, come sa chi per lei vita rifiuta. I versi del Purgatorio riferiti a Catone. Ecco, la struttura è una struttura epistolare e Foscolo non ha dei punti di riferimento nella letteratura italiana. La ricerca in quella europea si rifà al Richardson, autore di due romanzi, la Pamela e Clarissa, o alla nuova Eloisa di Rousseau. E poi l'esempio tedesco di Goethe, i dolori del giovane Werther. La struttura epistolare è importante perché garantisce una libertà di temi e di stili che altrimenti non sarebbe possibile. Giustifica anche il fatto che Foscolo salta improvvisamente, aggiunge lettere successivamente, inserisce frammenti e quindi dà un'impressione di spontaneità e di veridicità che altrimenti non potrebbe dare. E d'altra parte giustifica anche la scrittura talora disomogenea, le ripetizioni, i passaggi un po' bruschi che indicano appunto lo stato d'animo di Jacopo che cambia. È evidente che c'è una nota autobiografica nel romanzo, una nota fortemente autobiografica. Si dice che l'Ortis rispecchi il Foscolo da giovane, mentre poi Didi Mochierico rappresenta il Foscolo maturo, disincantato, ironico, eccetera. Molto spesso nell'Ortis ritroviamo gli stessi spostamenti nelle varie città italiane del Foscolo, ma soprattutto ritroviamo frammenti lettere private, parti perdute di altre opere. È insomma un romanzo verità e anche il pensiero del suicidio ossessionò a lungo il Foscolo. D'altra parte quello che pervade l'Ortis è questa delusione politica, prima ancora di quella amorosa. Sono due passioni disperate che incontriamo. La passione politica è quella amorosa. L'amore per la patria tradita che non si può riscattare è quello per una donna che è già stata promessa a un altro uomo, Odoardo, che è il contrario di Jacopo. Jacopo è passionale, è profondamente desideroso della libertà. Odoardo è un personaggio squallido, razionale, privo di sentimento. Quindi c'è questa antitesi fra i due uomini. D'altra parte quella che prevale nell'Ortis è la passione politica e soprattutto la denuncia del tradimento di Napoleone, la repressione austriaca, ma anche e soprattutto la critica nei confronti degli italiani che sono immaturi, che non riescono a conquistare la loro libertà. Jacopo polemizza contro il dominio della mediocrità, contro la prepotenza, la violenza della storia. Quindi come in ogni opera romantica, l'amore si intreccia col motivo della morte. E soprattutto c'è una sfiducia enorme nei legami familiari, civili, una visione pessimistica del matrimonio, ma di tutti i rapporti sociali. Nel romanzo si anticipa in più punti quello che sarà l'esito finale, la scelta del suicidio. Il fondo, il suicidio di Jacopo, qualcuno ha detto, è un gesto titanico, non è il gesto di chi si arrende, ma è un gesto teatrale, una protesta estrema contro chi soffoca la libertà della patria, contro chi obbliga una donna a sposare un uomo che non ama. La ritualità con cui si dà la morte è veramente costruita con una sapienza teatrale, si veste in maniera elegante, sceglie il pugnale con cui uccidersi e compie questo ultimo gesto eclatante di baciare il ritratto della donna amata. Anche il paesaggio esprime lo stato d'animo dell'Ortis, prevale una natura selvaggia minacciosa, Ortis avverte proprio la violenza della realtà, della storia, si sente trascinato da tutto questo, però ci sono dei momenti, delle pause idilliche in cui cerca conforto nell'ambiente agreste, nella forza dell'amore che trasfigura la natura stesa rendendola piacevole, però è un idillio momentaneo, precario, è un'illusione, un'illusione che cerca di fronteggiare inutilmente quello che è il dolore personale e la violenza della storia. Un altro aspetto importante è il legame con i dolori del giovane Werther di Goethe che era uscito nel 1774 e sappiamo la storia, anche qui ci sono delle letteri di un giovane borghese Werther che invia all'amico Willem. Qui racconta appunto le sofferenze amorose del protagonista per Lotte che è la donna che lui ha conosciuto in campagna e che è promessa sposa ad Albert che però a differenza di Odoardo è un giovane gentile, una persona per bene. E anche qui il romanzo finisce con Werther che praticamente si fa prestare le pistole da Albert e si spara alla tempia. Le somiglianze sono molte però ci sono anche elementi di differenza, tanto è vero che poi Ortis Foscolo reclama l'autonomia della sua opera, no? Non vuole essere confuso con le banali imitazioni del Werther. Ambedue gli scrittori, sia Foscolo che Goethe, hanno in qualche modo imitato la natura umana e ognuno di loro l'ha diciamo espressa secondo la sua sensibilità. Sottolineiamo alcune differenze importanti. Intanto nel romanzo tedesco il destinatario non ha poi grande importanza, mentre Lorenzo sì, Lorenzo compiange rispetto al suo amico, chiarisce, esprime e condivide le sue opinioni politiche, no? Pur essendo un personaggio più tranquillo, più moderato. La donna che ama Werther Lotte è sposata felicemente, mentre Teresa soffre perché questo matrimonio è un matrimonio imposto e quindi deve obbedire alla famiglia. E poi l'amore in Werther assume diciamo un significato diverso perché in Werther praticamente è un veleno, un veleno che è inappagato, che lo rende scortese anche verso gli altri. Jacopo invece considera l'amore quasi un modo per alleviare una passione più violenta che è quella politica. Werther si affeziona ad Albert, mentre Jacopo disprezza Doardo e poi il suicidio in Werther matura all'improvviso, mentre Ortis lo medita da tempo. Quindi il tema politico nell'Ortis prevale su quello amoroso, mentre quello tedesco nel Werther è il contrario.